Bentornati alla seconda parte del mio itinerario natalizio a New York. Proseguiamo sulla quinta strada fino all'incrocio con la 42esima e ci troviamo davanti la New York Public Library, quella con i due leoni di pietra sulla scalinata e anche questa l'abbiamo vista in tantissimi film. Solitamente ai leoni viene messa una bella ghirlanda intorno alla criniera, ma il pezzo forte della biblioteca si trova al suo interno. L'ingresso è gratuito essendo un edificio pubblico e nell'atrio si trova un albero di Natale alto fino al soffitto e veramente decorato in maniera molto molto elegante, quindi qui si punta la sobrietà più che all'eccesso. Forse è uno degli alberi di New York che io amo di più. Tra l'altro accanto all'albero viene sempre messa anche una menorà, cioè un candelabro ebraico, per festeggiare Annucca che cade sempre più o meno nei giorni vicino a Natale. Proprio dietro alla biblioteca si trova Bryan Park, un parco piccolino ma perfettamente incastrato in mezzo a tutti i grattacieli. Qui si può tranquillamente trascorrere anche un'intera giornata, nell'attesa che cali la sera, si accenda il meraviglioso albero di Natale che viene allestito qui e si accendano anche le finestre dei grattacieli che lo circondano, rendendo l'atmosfera ancora più natalizia. Qui viene anche allestita una pista da patinaggio piuttosto grande, quindi c'è spazio per tutti e da qualche anno anche è diventato ormai tradizionale il mercatino di Natale, sullo stile dei nostri mercatini europei, dove si possono acquistare oggetti di artigianato, oggetti anche un po' particolari, cibo, ci sono anche dei piccoli chioschi dove si può mangiare, bere, si può stare lì seduti sulle panchine e la cosa spettacolare è che si ha una vista privilegiata sull'Empire State Building. Proseguiamo ancora verso sud e arriviamo in zona Empire State Building, anche se gli addobbi di questo grattacielo secondo me non sono proprio indimenticabili, insomma ce ne sono di meglio. Quello che però secondo me è indimenticabile è l'albero di Natale che si trova dentro al mio grattacielo preferito di New York, cioè il Chrysler Building che è proprio lì vicino. Si può accedere gratuitamente, liberamente all'atrio, dove si trova questo albero di Natale molto molto elegante, che secondo me ha una particolarità, perché dovete sapere che l'atrio è completamente ricoperto di marmo, sia il pavimento che le pareti, e quindi le luci dell'albero fanno luccicare ancora di più tutta la stanza, perché si riflettono e è veramente come trovarsi all'interno di una specie di cielo stellato. A me è piaciuto sempre tantissimo questo albero. La 34esima strada abbiamo l'Empire State Building, che ovviamente alla sera è sempre illuminato con dei colori diversi, ma troviamo soprattutto i grandi magazzini Macy's, che sono forse i più famosi del mondo. Qui, già a partire dal giorno del ringraziamento, viene allestito tutto l'Ambaradan natalizio, con le vetrine che sono anche queste un must, come quelle di Sachs, e soprattutto sulla facciata principale viene montata una gigantesca scritta che dice Believe, cioè Credere, che devo dire forse quest'anno, come non mai, ha veramente assunto un suo significato particolare. Macy's comunque non ve lo dovete perdere e soprattutto anche per tutto quello che si trova dentro e da comprare. E anche qua, soldi che se ne vanno. Cominiamo verso Madison Square Park, oppure possiamo prendere anche la metro, a dire la verità. Questo parco, non tanto grande, si trova esattamente davanti al Flatiron Building, che è quel grattacielo anni 30 in stile art deco, fatto a forma di ferro da stiro, quindi molto molto riconoscibile, che si trova proprio, che spacca in due la Broadway in pratica, giusto per farvi capire. Questo parco ha il suo bel albero di Natale, la sua bella menorah ebraica, perché anche qui c'è questa doppia visione del Natale, diciamo cristiana e anche ebrea, e anche qui la cosa spettacolare è quella di potersi sedere in questo parco, nelle panchine, bevendo magari un caffè caldo, una cioccolata calda, e vedere tutto quanto all'intorno, perché ci sono dei grattacieli molto molto belli, molto suggestivi, e se c'è la neve è ancora più bello e ancora più emozionante. Siamo un salto molto più a sud e arriviamo al Greenwich Village, nella zona della New York University, dove troviamo Washington Square Park, che è famoso per essere quello con l'arco di trionfo proprio, che si affaccia sulla Fifth Avenue e attraverso il quale si vede anche in lontananza l'Empire State Building, quindi ribaltiamo la visione della città. Qui viene ogni anno montato un albero molto molto bello, che vi permette di fare delle foto, appunto con questa prospettiva di arco di trionfo, un Paese State Building, grattacieli, veramente figo. Io qui consiglierei di fare questo, si va alla New Yorkina, che è una caffetteria-gelateria messicana che fa delle cose deliziose, si prende il caffè da asporto, ci si siede su una panchina del parco e si ammira l'albero con tutta questa super scenografia che vi ho raccontato, e si sta lì a vedere anche solo i passanti e com'è un po' la seconda parte dell'itinerario natalizio, proseguiremo poi con altre meravigliose zone di New York dove assaporare appieno la magia del Natale. Quindi continuate a seguirmi, continuate a camminare con me in questa meravigliosa città, forse la più bella del mondo, una delle più belle del mondo, e continuiamo a sognare insieme in attesa di andare veramente a trascorrere un Natale a New York. Buona giornata, un bacione a tutti, ciao!